So che siete in tanti a seguirci sui canali social dell'Aeronautica Militare. In questi giorni forse è proprio uno degli strumenti che ci consente di essere vicini moralmente anche se distanti fisicamente. Oggi il protagonista di questo messaggio non è il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma è la bandiera di guerra della Forza Armata. È simbolo che ci rappresenta, che ci ha accompagnato oggi per esattamente 97 anni di storia e di vita. È simbolo che ci rappresenta, che racchiude tutti i nostri valori, i nostri principi, i nostri caduti. Rappresenta il sangue, il sudore di chi ha servito l'Aeronautica negli anni passati e chi la sta servendo oggi. Specialmente oggi in un momento particolarmente difficile della nostra storia, particolarmente difficile per l'Italia e per tutto il mondo. L'Aeronautica come squadra coesa sta facendo da propria parte, sta lavorando per mantenere quella che è la capacità operativa, per svolgere tutti quelli che sono i servizi essenziali che la legge prevede per la nostra Forza Armata e per aiutare chi sta meno bene di noi, per fornire un servizio di aiuto, di supporto alla popolazione, di lotta a questo terribile virus che sta imperversando in tutto il mondo. Il mondo migliore per festeggiare il nostro 97esimo anniversario, che quest'anno non sarà né con feste né con celebrazioni né con incontri né con fanfara, è semplicemente quello di fare il nostro dovere con servizio e responsabilità. Penso siano le due parole più importanti che devono contraddistinguere l'operato di tutti gli uomini e le donne della Forza Armata, ma sono forse anche i valori che ciascuno di noi, ciascun cittadino deve avere ben presente per affrontare questo momento di difficoltà, di prova. Un momento che sconvolge i nostri ritmi di vita, sconvolge la nostra normalità, mette a dura prova tutte le certezze nelle quali siamo abituati, ma è un momento che forse fa anche risaltare e fa ritornare a pensare a quelli che sono i principi, le cose importanti della vita. È uno scrollone la nostra vita che fa cadere tutti gli orpelli, tutte le cose superflue e mette a nudo invece le cose importanti, le cose essenziali. È un'opportunità quindi per riscoprire questi valori importanti. In questo mi sento di esprimere una profonda gratitudine, apprezzamento e riconoscimento a tutti gli uomini, a tutte le donne della Forza Armata per il lavoro eccezionale che stanno facendo, insieme a tutte le altre realtà pubbliche, private, militari, civili del Paese, per lavorare insieme a contrastare questo contagio, questo virus. Ringrazio gli uomini e le donne della Forza Armata che ogni giorno contribuiscono col trasporto sanitario d'urgenza, con le operazioni di biocontenimento. Ringrazio tutti i medici, il personale sanitario, gli equipaggi che sono in prima linea ogni giorno. Ringrazio tutto il personale che è in fuori area, che non è dimenticato né lontano da noi, ma continua a svolgere un servizio fondamentale di contributo alla pace e alla sicurezza nel mondo. Ringrazio tutto il personale che anche con i lavori più umili consente il funzionamento e la vita di una struttura così complicata come una Forza Armata, che consente di vivere e operare a oltre 44.000 persone, uomini e donne, che compongono la Forza Armata. Quando questa pagina triste di storia sarà superata ci guarderemo indietro e ci guarderemo anche allo specchio. L'auspicio e l'augurio che voglio fare è che ciascuno di noi possa guardarsi allo specchio con orgoglio, con soddisfazione, senza vergogna, consapevole di aver fatto il proprio dovere, il proprio lavoro, per i militari sul posto di lavoro, ma per tutti noi anche a casa, in famiglia, nella vita privata, per rispettare quelle che sono le norme, per avere spirito e senso civico, per fare comunità e squadra, per superare insieme questa difficoltà, nel rispetto di quelle che sono le norme, nel rispetto e per il bene di tutti gli altri cittadini. Agli uomini e le donne in servizio oggi in aeronautica chiedo due cose in particolare. Mi piacerebbe che spendessero un momento di pensiero, di ricordo ai nostri caduti, a quanti hanno versato sangue per servire la nostra bandiera. La seconda cosa che chiedo è una telefonata, chi vuole, se conosce qualche persona, magari sola, che ha fatto parte della Forza Armata. Una telefonata per dare quel senso di appartenenza, di continuità, di famiglia, di squadra che contraddistingue l'aeronautica militare. È un modo, penso, giusto per ricordare e dare questo senso di comunità nazionale, anche a chi è un pochino più lontano da noi. E quindi, ecco, questo penso sia il modo migliore per ricordare i nostri 97 anni di storia. Oggi siamo protagonisti di una pagina non felice della nostra vita, non felice nella vita del mondo, per questa tragedia che sta toccando tutti i paesi del mondo. Viviamola con senso di responsabilità, con spirito di servizio, con serietà e con la disponibilità per lavorare assieme. In questo modo sicuramente onoriamo la nostra bandiera, onoriamo la nostra storia, onoriamo il nostro paese e saremo orgogliosi di aver superato insieme, quando questa epidemia sarà terminata, di aver superato assieme una pagina difficile della nostra storia e della nostra vita. Grazie, auguri a tutti e viva l'aeronautica militare!